in diretta scusami, mi senti? Sì, siamo in diretta Sto a un certo punto, non so quando dovrò allontanarmi un minuto per aprire la porta Va benissimo, non c'è problema Allora, intanto grazie ancora Fausto di aver accettato ancora una volta l'invito di Transform, ormai sei quasi uno di redazione per noi Grazie, grazie grazie a te, grazie a Transform assolutamente Un piacere di stare con voi Ecco, abbiamo diciamo chiesto a Fausto di essere qui con noi per chiacchierare un po' su questa ultima uscita di Prodi in cui evidenziava un po' i limiti di di questa Europa ma anche delle politiche che si sono via via sviluppate fino a renderci un po' disarmati rispetto al sistema produttivo alla filiera del potere del comando in Europa e soprattutto anche in Italia Allora Fausto è stato diciamo l'emblema e con rifondazione della contrapposizione a quell'idea di società che appunto si stava sviluppando attraverso l'integrazione europea attraverso le politiche via via neoliberiste che si stavano imponendo anche nel nostro paese la battaglia sul lavoro su tante sulla dismissione diciamo del ruolo del pubblico questi sono elementi che secondo noi sono rappresentate anche dalla vicenda del tuo rapporto con Prodi e con i governi che si sono succeduti in quegli anni e quindi mi faceva piacere intanto sapere da te come 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 vedi questa questa nuova uscita queste quasi una missione di colpa da parte di Prodi e come come è stata per te quella quella esperienza grazie e tanti saluti a tutti intanto poi come come dice la vecchia battuta niente di personale ovviamente ma indubbiamente Prodi il Prodismo in fondo è stata è stata una delle ultime interpretazioni in Italia di quel di quel campo che si chiama centrosimistra la cosa curiosa ma questo forse ne ricorderemo poi è che in questo ciclo completamente diverso da quello precedente in Italia solo in Italia riaffiora la tentazione di tornare al centrosimistra persino persino con il ricorso ai padri fondatori diciamo di quel centrosimistra e intanto questa è una prima cosa da dire per Conaca allora c'era una formazione di sinistra che rinchiutò sempre non per tigna ma per collocazione strategica di fare parte di quel centrosimistra anche quando i fondazioni comunista fece l'esperienza di sostegno del governo senza parteciparvi direttamente ma di sostegno quindi di costituire maggioranza con il centrosimistra venne marcata con grande nettezza una distinzione che appunto era una distinzione strategica che riguardava cioè il giudizio di fondo sulla società capitalistica se volete chiamarla così sulla nuova società capitalistica che si veniva costituendo e diciamo la diversità appunto con il centrosimistra che sembrava anzi più che sembrava pensava di potere come il centrosimistra in Europa del resto essere la forza più adatta a governare la globalizzazione di questo quindi diciamo ci sono due opzioni di fondo un'opzione del centrosimistra che adesso non la descrivo perché sarebbe una descrizione critica ma la chiamo per titolo governare la globalizzazione essendo la forza più vocata a farlo perché in sintonia con la modernizzazione che essa implica è invece una forza di fondazione comunista che in sintonia con altre forze critiche presenti in Europa che poi costituiranno anche il partito della sinistra europea ma non solo queste pensa invece che la globalizzazione va definita è globalizzazione capitalistica non globalizzazione e che si tratta di una gigantesca ristrutturazione che abbiamo chiamato una rivoluzione capitalistica restauratrice in queste con questo divario strategico c'è una convergenza in questa alleanza di governo anche nel tempo breve la differenza è rilevante io vorrei ricordare che la rifondazione comunista fu forse qui c'è Roberto che forse se lo ricordo meglio di me fu l'unico partito comunista in Europa a sostenere l'euro con una forma però molto come si dice che allora veniva considerata originale sia all'euro no a Maastricht la coppia che ha guidato diciamo la collocazione di rifondazione comunista diversamente da quella del centro-sinistra era la diciamo la stessa condivisione della necessità di far parte dell'euro ma con una critica e diversamente era centro-sinistra a Maastricht che era una critica in realtà che si muoveva in quella che diciamo è stato poi il paradigma della guida della politica economica e statuale europee ma di più che metteva diciamo l'accento critico anche sul processo di costruzione di quell'euro questo è quando si vede questa cosa si vede già dall'inizio adesso poi finisco perché se no facciamo un discorso storico non è importante è importante cogliere il punto della differenza strategica questa differenza strategica cade sul terreno non è che sta nel cielo cade sul terreno e non solo nella proposizione politica diciamo entrambi per l'Europa loro con l'Europa di Maastricht noi contro l'Europa di Maastricht per un'altra Europa non solo su questo precipita concretamente anche sulle scelte dei governi quindi nel cielo alto della strategia nel punto intermedio delle scelte di politica economica sociale istituzionale nella pratica diretta dei governi quando quando noi proponiamo in Italia col primo governo Prodi la riduzione dell'orario di lavoro naturalmente è un elemento specifico però è una cartina al tornasole perché è una cartina al tornasole perché in quegli stesso tempo in Francia c'era un governo socialista il governo di Jospin il governo socialista che aveva molti limiti in degli altri però fa un'operazione importante vaga la legge per la riduzione dell'orario di lavoro noi che già avevamo accumulato molta elaborazione su questo su questa questione ci buttiamo chiedendo che il governo di Prodi faccia una legge così c'è un contrasto buissimo ma alla fine troviamo un compromesso e si scrive una proposta di legge che viene inviata in Parlamento lo dico con sorriso consapevole primo firmatario romano Prodi che si allinea diciamo alla scelta francese con una modalità originale ma si allinea perché cito questo episodio perché qui siamo a uno spartillato se il governo Prodi dopo aver firmato quell'accordo non l'avesse dismesso e avesse fatto un'alleanza con il governo di Jospen per fare la riduzione dell'arrivo e ricavare da quello l'incipit per una diversa collocazione delle politiche economiche e sociali in Europa facendo una battaglia politica anticipando quella che sarebbe dovrebbe dovuto essere poi un'alternativa al berismo che era la manifestazione più compiuta diciamo dell'orientamento che presero poi i governi di centro-sinistra in Europa forse forse la storia sarebbe potuta andare a diversa bene questo diciamo è l'inizio questo inizio della vicenda ha un seguito ma il seguito è grosso modo sempre su questo canovaggio e quasi sempre su questo canovaggio adesso poi dovremmo passare a un altro capitolo che è quello invece che ci porta al secondo governo Prodi cioè l'esperienza del passaggio straordinario dei movimenti fino a Genova in movimenti altamondista che diventa la soggettività è un protagonista che trascende la vicenda dei partiti trascende la vicenda nazionale persino europea si colloca sul terreno nazionale dalla vita persino poi il movimento pacifista e soprattutto indica qual è la contesta contro diciamo l'esigenza cioè di una critica radicale alla globalizzazione capitalistica in cui invece si iscrive l'Europa cioè l'Europa si colloca lì dentro il tentativo sarà ancora l'ultimissima perché Emanuele dice ma visto che avevate imparato perché ci riprovate sbagliare è umano ma perseverare perché riprovate intanto per una ragione come si può dire di di relazione con il paese noi avevamo noi in fondazione comunista avevamo diciamo per una scelta appunto di coerenza strategica non per come si può dire non per tigna avevamo prodotto la crisi del governo Prodi precisamente per la ragione diretta si vede anche sul terreno sociale quello che ha cominciato sulla questione dell'orario di lavoro quindi rompiamo le accuse dei confronti nostri si ricordano tutti sarebbe stato impossibile vincendo le elezioni non sottrarre il governo a Berlusconi di allora e questa era una ragione difensiva ma c'era una ragione invece dinamica i movimenti noi abbiamo scommesso sbagliando e intendiamoci almeno per me abbiamo sbagliato sulla permeabilità dell'istituzione paese come si era per un momento siamo sottratti a questa tendenza che abbiamo appena descritto dell'Europa reale no? dell'Europa che diventa sempre più oligarchica sempre più neoliberista dall'altra parte ci sono i movimenti noi confidiamo sui movimenti e puntiamo sulla permeabilità delle istituzioni guardate anche persino simbolicamente la scelta della presidenza della Camera questo ha significato la Camera diventa il luogo dove i movimenti influenzano il Parlamento e incidono sul governo pensiamo ad andare al governo come una cerniera ripeto va letta criticamente questa questa interpretazione ma questo è dunque riassumendo noi la Fondazione Comunista noi siamo stati in un corpo a corpo con il centrosinistra nel tentativo quotidiano di introdurre della sabbia nell'ingranaggio della costruzione dell'Europa reale e della globalizzazione tentando di portare dei compromessi dinamici e contemporaneamente offrendo ai movimenti ai soggetti sociali al paese una alternativa programmatica e strategica al centrosinistra certamente essendo una forza di minore consistenza ma con questa idea di alternativa punto sulla storia l'oggi io ho due osservazioni da fare due una che il centrosinistra ha proprio un vizio secondo me strutturale che può indicare un cielo dei valori che non sono ispiratori della propria pratica politica ma sono invece come dire un elemento culturale nei confronti del quale la pratica politica si produce secondo il criterio del realismo e della internità al sistema questo è il punto il punto centrale il centrosinistra ha un rapporto di doppiezza qui c'è una doppiezza sistematica della cultura ulivista del centrosinistra c'è una separazione tra il cielo dei valori che ha anche influenzato da pensieri interessanti che vengono nella cultura e nella società e una pratica politica una pratica politica sociale improntata al più stretto realismo congiunturalismo pratica del possibile secondo quello che è dettato dalla compatibilità col sistema economico sociale e politico in essere per questa ragione non è questione di non credere le autocritiche le autocritiche sono come i valori stanno nel cielo si può pienissimo dire sì certo il centrosinistra e l'ulivo e la collocazione in Europa di quegli anni adesso possiamo dire che era sbagliata ma perché lo puoi dire senza pagare prezzo e pegno perché perché oggi per forza il sistema deve uscire dalla gabbia compatibilista in cui era stato imprigionato dalle politiche di austerity quando le politiche di austerity rispondevano a quella esigenza diciamo di liberare le forze della competitività capitalistica e invece si deve portare sul terreno della risposta a una recessione che rischia di essere devastante e per cui diciamo a partire dalla della banca centrale europea ad arrivare alla commissione europea e quindi anche arrivare ai governi si introduce una sorta di riformismo del capitale perché non può più essere imprigionato nella vecchia politica ma stiamo dentro una logica che appunto sceglie di cambiare io meglio maestro in questi passaggi diciamo la borghesia cambia di spalla il fucile la formula così diciamo è un po' eroica ma ma dai il senso cioè tu sei passato per necessità dalle politiche di austerity alle politiche di eh finanziamento di una ristrutturazione capitalistica necessaria quindi anche con una spesa espansiva ma non 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 porti il cambiamento a mettere in discussione il paradigma centrale il paradigma centrale era prima come oggi il mantenimento di questi rapporti sociali eh e anche gli elementi che vengono introdotti di correzione eh come certo ecologismo come certe eh sospinta all'innovazione sono interni a questi meccanesi in cui i rapporti sociali vengono consolidati invece che che messi in discussione basterebbe pensare se volete da un lato alle politiche fiscali dall'altro alle dinamiche di redistribuzione del reddito o se volete pensare davvero a scelte eh radicalmente innovative sul terreno del rapporto tra la vita e l'ambiente e quello che invece viene proposto fino ecologici ecologici poi magari puoi persino parlare del ponte dello stretto capisci è tutto quello che può essere avvolto in queste cose allora alla stretta naturalmente so che mi espongo molto il centro-sinistra olivista e parodiano è per sua logica intrinseca compatibilista una politica di sinistra è necessariamente incompatibilista cioè di rattura della compatibilità e di introduzione i vecchi parlavano delle riforme di strutture della rottura delle riforme di strutture naturalmente non è questo il tema di oggi sarebbe diverso ma il tema della rottura delle compatibilità sul terreno dei rapporti sociali dei rapporti tra produzione riproduzione rapporti con la natura sul terreno distributivo sul terreno della qualità della vita del rapporto delle persone sul terreno delle nuove economie è lì questa è la differenza ed è una differenza di fondo secondo me grazie giusto lucidissimo sempre io non aggiungo altro se non che anche in Spagna in questi giorni si sta parlando appunto di riforma dell'orario di lavoro in Finlandia c'è una proposta del governo di sinistra in cui c'è anche la sinistra di ridurre le ore lavorative quattro giorni lavorativi e quindi il tema mi sembra che ancora oggi sia sul tavolo e volevo sentire adesso Musacchio e Rosa che sono qui con me e chiedere a loro di intervenire prima Roberto magari poi dopo Rosa adesso Fausto ha ricostruito in modo molto organico quindi bisogna un po' lavorarci di fioretto dentro questa sua ricostruzione quindi scelgo un punto Fausto tu sai ne abbiamo parlato nel corso degli ultimi anni varie volte peraltro questa settimana trasformo in Repubblica un pezzo che io ho fatto quattro anni fa insieme a Graziella Mascia e a Patrizia di quando parlavamo di come a un certo punto bisognasse riprendere la battaglia per ricostruire un po' la storia come tu l'hai ricostruita insomma perché questo è quello che ti volevo chiedere non ti sembra che in questo paese ci sia anche un eccesso diciamo così di quello che tu hai definito compatibilismo pragmatismo anche un po' anomalo rispetto al resto dell'Europa e che questo colpisca particolarmente perché eravamo abituati ad essere un paese con il più grande partito comunista d'Occidente con un maggior livello di politicizzazione e invece diciamo dietro a quella che tu chiami anche in questi giorni crisi democratiche è evidente passiamo nel trentennio da Ciampi a Monti a Draghi ma c'è proprio una crisi della politica per cui Prodi può dire tranquillamente che ha sbagliato tutto e nessuno dice nulla e può succedere qualsiasi cosa ma non c'è più nessuna reazione mentre ai tempi nostri ecco noi eravamo bombardati da una parte di quelli che ci dicevano stai con Prodi e dagli altri che dicevano ma noi vogliamo salario eccetera eccetera e questa cosa ha cominciato un po' sin dall'inizio c'è stato Maastricht ma insieme agli accordi sindacali che tu ricordi ci siamo incontrati in quella fase lì e poi cade Berlusconi sulle persone e arriva il governo che fa la contoriforma delle pensioni ecco non ti sembra che c'è un surplus vada indagato e anche contrastato io ne sento l'esigenza a questo punto anche dalla mia vita beh Roberto grazie intanto ma tu poni diciamo due o tre cose tutte importanti la prima quella di una ricostruzione di uno sguardo critico sulla storia recente io come te penso che sia necessario assolutamente necessario perché perché noi paghiamo due volte adesso questa mancanza l'una perché non si vedono i fili così perdendo questo rapporto non si vedono i fili che in situazioni pure diversissime corrono tra ieri l'altro ieri ieri e oggi e sono importanti perché sono formatori del senso comune questi fili sono formatori del senso comune e quindi hai molto hai molto ragione e noi ma anche diciamo personalmente siamo poco sorvegliati su questa su questo terreno poco sorvegliati e quindi niente qui semplicemente condivido sulla seconda è più problematica perché tu hai ragionissime a mettere l'accento anche sulle differenze è sempre un errore non farlo però qui io penso che la tendenza prevalente prevalente sia omologante in Europa sia omologante guarda tu li qui poni un problema su cui adesso io annoto solo ma mi piacerebbe che ci riflettessero quelli più diciamo più dotato di una strumentazione storica perché a me quasi provocatoriamente quasi provocatoriamente mi verrebbe da dire che noi stiamo peggio tanto più quando eravamo stati meglio certo cioè mi mi verrebbe da dire che in realtà non c'è una contraddizione come appare a prima vista tra la potenza noi diciamo del partito comunista ma del movimento operario italiano in cui il partito comunista era così importante sì grazie ma c'era anche un sindacato confederale di primo ordine che a cominciare dalla CGL di Vittorio che si inventa il piano del lavoro a proposito di storia con questo imbroglio che viene praticato quotidianamente per me insopportabile di una descrizione idilliaca del dopoguerra italiana in cui tutti sarebbero stati concordi in unità nazionale quando i comunisti vengono cacciati dal governo i comunisti nelle fabbriche vengono repressi e licenziati la polizia spara sugli operai spara sugli operai fino ad Avola ma insomma lo scontro sociale più drammatico che si conosca la Fiat la licenza per rappresaglia agli operai solo perché comunisti e mi vengono a spiegare che invece era il tempo di un internazionale come quello che sarebbe oggi cioè veramente un imbroglio sistematico che paga il paese nella mancanza di una memoria storica di sé allora richiuso la parete il movimento operario e all'interno di questo questa gigantesca costruzione del partito comunista ma anche il sindacato confederale di classe fino al sindacato dei consigli l'essere andati così in alto secondo me ha determinato nella sconfitta un precipizio col disfacimento di questi sforzi cioè tutti noi io a volte penso anche a me per quanto tempo non ho pensato a che rendita di posizione disponevo per il solo fatto di essere iscritto in quel circuito in termini di conoscenza di relazioni con persone mondi straordinari con luoghi di ricerca con la possibilità di scrivere dal volantino fino alla pubblicazione su una rivista straordinaria tutto questo noi ce ne eravamo dentro anche eravamo critici ma stavamo dentro questa costruzione gigantesca è evidente che nel momento che quella crolla siamo più soli di altri perché gli altri in qualche modo erano usi diciamo a come dire a frequentare luoghi con maggiore difficoltà di quelli che noi scusa Roberto ma tu pensa al grado di consenso dell'intellettualità italiana oggi posso dire il deserto dell'intellettualità italiana è veramente impressionante ma non è forse come dire la controfaccia di quel consenso così ampio che nell'intellettualità italiana non aveva circondato il partito comunista ma non lo dico come un'accusa di opportunismo lo dico perché è venuto a mancare adesso fuori da ogni psicanalisi per l'amore del certo è venuto a mancare il padre è venuto a mancare il padre e anche la madre e quindi e quindi la diciamo la solitudine del crollo di una vicenda come quella del caso italiano diceva Pietrangaro è più acuta che in altri paesi secondo tuttavia gli elementi in comune sono impressionanti adesso semplicemente mi sono tenuto sotto mano Le Monde che impressionante dice traduco all'impronta quindi magari un po' personalmente a poco più di un anno dalle presidenziali circa la metà degli elettori del parto socialista della franhe della franhe semis dei verdi cioè di tutto il campo quindi pensano e dicono nei sondaggi di non pensare più di fare barrage cioè la disciplina repubblicana contro il rassemblement nazionale e dice che nella ricostruzione di inchiesta quello che emerge è che c'è una destra una sinistra in cui mi scusate solo che vado a aprire la porta vengo subito mi scusate chiacchiate un attimo solo grazie Pausto tratteniamo mentre mentre apre la porta tanto ringrazio ancora chi ci sta seguendo perché siamo tantissimi più di 90 persone adesso in diretta con noi e quindi magari ricordiamo scusatemi scusatemi ma io in casa da solo e dice dice sempre ma siamo siamo sul frontale di Le Monde cioè proprio prima pagina della prima pagina c'è una sinistra che ha il sentimento di essere strumentalizzata in una serie di elezioni e non avere più la volontà di fare scelte per difetto metà cioè metà degli elettori di sinistra dicono che non voterebbero più contro Le Pen il candidato Macron non lo voterebbero più pensate al solco che si sta approfondando vuol dire che io penso che sia così penso che siamo in una situazione analoga da questo punto di vista che è la cosa fondamentale cioè il disfacimento provocato dal dalla scomparsa della sinistra politica di quel sentimento di popolo di tutto il secondo dopoguerra che faceva in Francia della disciplina repubblicana e in Italia dell'antifascismo in politica una ragione comunque sufficiente per votare quelli che un tempo erano gli eredi della sinistra questa ragione si sta consumando e questo secondo me è indicativo della devastazione che è intervenuta perché contemporaneamente sono raccontate due cose più rapidamente sono raccontate due cose da un lato questo ve la ricordate la formula famosissima la cito spesso perché secondo me è straordinaria Thomas Elliot in un momento di crisi radicale della chiesa cattolica e di fronte al fatto che cominciavano a vedersi chiese vuote diceva bisogna chiedersi se è la chiesa che ha abbandonato il popolo o se è il popolo che abbandona la chiesa spostiamo la chiesa sulla sinistra è in Europa la sinistra che ha abbandonato il popolo e il popolo si è sfoppato questo è il punto per sentire contemporaneamente questo non possiamo perdere di vista secondo me c'è una crisi drammatica della democrazia e le oligarchie prendono sempre direttamente più il comando guardate guardate le persone i ceti non sono più i ceti politici che governano sono ceti economici finanziari lo dico analiticamente lo dico solo per osservare un procedimento attraverso la quale non più soltanto c'è un'influenza come sempre dei processi economici finanziari sulla politica ma c'è ormai una presa diretta che ha a che fare con la convinzione crescente da parte di questo sistema che le nuove forme di governo adesso non c'è bisogno di fare dei proclami non hanno più bisogno del consenso possono organizzarsi senza il consenso a meno della crisi sociale grazie Fausto a voi e do la parola a Rosa allora Rosa mi scusate non avevo acceso il microfono dicevo come sempre parlare con Fausto per chi vuole provare ad interloquire come nel mio caso è è sempre impegnativo ci tengo a dire che quando eravamo insieme al sindacato e lui era in segreteria io avevo sempre bisogno di prepararmi quando dovevo contestargli delle cose cioè non lo facevo con facilità in questo caso la la diciamo gli argomenti che fausto ci ha portato naturalmente il tema è attorno a Fausto e le esperienze dei governi eh Prodi e io però vorrei inserire due cose mi rifaccio alle parole di di Fausto Bertinotti ehm tu hai portato questo esempio appunto di chi dice che eh non voterebbe più sostanzialmente contro l'esponente fascista in Francia eh perché quello che è accaduto non è sufficiente diciamo a garantire eh evidentemente diritti o un altro tipo di o un segno differente di governo eh io penso proprio per le esperienze comuni fatte anche che per esempio noi in Italia non abbiamo mai sufficientemente ne abbiamo discusso diverse volte ma mai affrontato nella sua serietà di fondo la separazione che c'è stato tra rappresentanza politica e rappresentanza sociale nel mondo del lavoro che è accaduto da moltissimi anni in particolare al nord per cui tanti e tanti iscritti alla CGL che nelle fabbriche era giudicato il sindacato che più ti proteggeva rispetto al padrone però nel voto erano gli stessi ne abbiamo discusso appunto molte volte che poi votavano Lega per cui c'era la ricerca di una rappresentanza che ti garantisse che ti difendesse più efficacemente rispetto ai tuoi diritti nel lavoro era appunto il sindacato più radicale nella nelle questioni sociali e politiche che in quei casi era era la Lega penso che questo è un fenomeno diciamo che ha una sua collocazione nel tempo ma io penso che non ne abbiamo tratto una una lezione a sufficienza concludo perché ci interessa più ascoltare naturalmente Pausto e su un'altra questione a me è piaciuta molto questa definizione che tu hai dato sui vizi strutturali del centro sinistra mi piace molto questa metafora dei valori diciamo così come un cielo dei valori come le stelle che sono belle ma sono almeno per il momento irraggiungibili poi chissà chi verrà nel futuro se ci arriverà però diciamo sono qualcosa di lontano che è tutt'altro dalla dal diciamo così il sol dell'avvenire o l'orizzonte verso il quale ti incammini che ti dà la possibilità di metterti in movimento ma noi lo sapevamo che non avremmo che non l'avremmo raggiunto allora e mi piace non l'avevo coniugato fino ad ora insomma dopo averti ascoltato in questo modo seppure qualche osservazione nei giorni scorsi l'abbiamo fatto sulla compatibilità del del possibile allora la mia non tanto domanda riflessione che mi piacerebbe tu potessi svolgere per aiutarci insomma in questa riflessione anche questa c'è una compatibilità interna oramai manifesta e dichiarata sulle politiche socio-economiche tra centro-destra e centro-sinistra cioè le differenze sono davvero impercettibili e uno si chiede ma perché uno dovrebbe scegliere il centro-sinistra al posto del centro-destra e come è potuto accadere oggi non poteva accadere prima che con diciamo Draghi diventa presidente del consiglio e forze politiche che governavano con la parte più estrema si ritrovino a fare uno stesso governo con dentro il centro-sinistra e anche un pezzetto di sinistra diciamo quindi come è interpretato questa cosa allora c'è una compatibilità interna che forse diciamo ancora una volta richiederebbe una analisi società come si diceva prima e dal dove si comincia per provare a ricostruire un'alternativa altrimenti siamo condannati appunto alla Prodi che fa presenta un disegno di legge sulla riduzione della dell'orario di lavoro ma poi la responsabilità di quella caduta del di quel governo è ricaduta come tu ci hai ricordato ora nell'immaginario collettivo su di noi insomma sono diversi argomenti che mi hanno dato delle suggestioni importanti su cui mi piacerà riflettere anche più avanti grazie oh intanto grazie 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 a Rosi e grazie a tutti voi perché insomma l'impressione di essere a casa è sempre un'impressione molto piacevole e poi e poi in una casa che almeno per quello che io la vivo continua a essere così piena di stimoli di come si può anche amichevolmente essere indagatori diciamo così i pensieri anche degli altri quindi è sempre un regalo alcune cose di quelle che Rosa ha proposto la prima anch'io penso che la questione della che la questione è la questione di tutte le istituzioni del mondo e da questo punto di vista Rosa ha molto ragione a mettere l'accento anche sul sindacato questa storia della sinistra italiana e secondo me insomma della fine della sinistra politica italiana come soggetto protagonista della scena nazionale ha a che fare molto con questo versante con lo sindacale molto adesso ci sarà una ragione per cui lo sciopero proclamato qualche giorno fa alla Amazon ti produce un'emozione perché è un filo d'erba in un deserto e anche quando si producono dei fatti importanti penso il contratto di metalmeccanici due cose non accadono una che occupi la scena politica anche per un solo momento e due che diventi un momento di socializzazione dell'esperienza compiuta che erano diciamo così i due elementi la cosa lo ricorderà bene perché l'abbiamo fatti insieme tipici della pretesa legittima del sindacato di essere soggetto politico ora invece il sindacato quando è soggetto politico è un danno invece che un vantaggio ieri era un vantaggio perché il suo essere soggetto politico era il portatore di un'autonomia oggi quando il sindacato diventa soggetto politico è perché si iscrive nel sistema decisionale si iscrive nel sistema decisionale cioè diventa diventa politico si può dire per metamorfosi per imitazione anche quando dice cose giuste il sindacato ha un grave pericolo secondo me di imitare metodologicamente l'ulivo cioè di poter dire delle cose giuste ma senza sangue e carne come in un mondo parallelo a quello reale e qui siamo arrivati con un lungo cammino con un lungo cammino di un sindacato che è diventato sempre di più istituzionale e sempre di più esso stesso un'istituzione una componente istituzionale ci è sempre stato anche nei momenti migliori ma la coppia conflitto contratto non è un caso che venga riaffacciata dagli ultimi o dai penultimi e che riacquista un senso pregnante come nello sciopero dei lavoratori dell'azzo perché ha a che fare davvero con un elemento di concreta realtà sia il conflitto che è difficile duro devi esporti per poter fare quello sciopero devi correre il rischio della repressione che Amazon può realizzare per cui è così importante e contemporaneamente la conquista del contatto non 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 discende da qualche da qualche copertura di sistema lo devi conquistare cioè ritorni a questa radice del sindacato appunto come organizzazione della rappresentanza del lavoro diretto dei lavoratori e se in Italia scioperi per il controllo dei carichi di lavoro dei ritmi per le garanzie assicurative per la possibilità di continuità se ti viene cambiata la proprietà e in Alabama devi scioperare per il riconoscimento del sindacato questo fariaffiorare una questione che sembrava che sembrava non ci fosse più perché anche diciamo il conflitto sindacale viene tenuto diciamo dentro l'ordine costituito ecco e io penso che il il primo compito che è davanti il sindacato è precisamente quello di sottrarsi a questo ordine costituito guarda che tu ricordavi i primi casi dei lavoratori che iscritti alla fianca votavano lei lì era il sentimento di un tradimento quello della tua parte politica infatti votava Lega ma ma è scritto la fiore cioè teneva il fronte del combattimento sociale e e cambiava diciamo la sua rappresentanza politica perché si sentiva tradito scusate è esattamente quello che ci diceva Le Monde con la sua inchiesta ripeto il titolo c'è a sinistra il sentimento di essere strumentalizzati in più elezioni e traditi noi tutti che siamo qui caccarando abbiamo sempre abborito il termine tradimento sulle questioni sociali e politiche e continuiamo a farlo lo cito qui non per abdicare a questa sorveglianza critica ma per parlare di un sentimento popolare traditi o abbandonati e in questo traditi o abbandonati non c'è anche quando sei iscritto al sindacato in larga misura lo senti così e quindi c'è anche per essere indecato un problema di ricostruzione della sua radice sociale e della sua rappresentanza fuori dal concerto istituzionale riacquistando la credibilità come organizzazione diretta dei lavoratori contro contro lo shopper dell'amazon è importante per questo perché è contro è contro un padrone io penso che uno dei punti di difficoltà di vivere il sindacato oggi è che non si capisce l'essere contro è per delle cose ma senza l'avversario non costruisce neanche un'identità e soprattutto non fuori la barriera delle compatibilità che oggi è una prigioniera la questione che poi hai posto subito dopo è enorme è una questione come dire è veramente una questione di prima grandezza perché in realtà è la questione del futuro è la questione del futuro dei processi di liberazione nel mondo di liberazione sai qui il discorso diventerebbe davvero molto 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 complesso e bisogna farlo e bisogna farlo ma tra i tanti punti di difficoltà io vedo proprio quella della riconnessione in termini culturali della critica a tutte le forme di spogliazione e di sfruttamento di spogliazione e di sfruttamento io vedo come un rischio terribile veramente terribile quello secondo cui i temi delle libertà e delle dignità delle persone diventino la bandiera della di una sinistra elitaria per bene non dico borghese ma insomma quella che polemicamente si dice della ZTL e la questione sociale diventa invece quella dei disperati ora non perché lo vogliamo ma perché guardate il movimento negli Stati Uniti d'America ancora torno sulla cosa che diceva Roberto ci sarà una ragione per cui il termine socialista può essere usato da un candidato alle presidenziali statunitense e non può essere usato dal segretario del PD ci sarà una ragione eh 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 Sander usa con disinvoltura il termine sono socialista Letta non lo può dire no non lo può dire non lo può dire no allora eh gli Stati Uniti d'America che non hanno avuto questa storia gigantesca del movimento operaio ma hanno avuto grandi conflitti si trovano in una condizione adesso voi mi scusate questa forma di innocenza cioè non sono gravati sulle spalle dalle sconfitte dai pesi precedenti per cui esplorano nel movimento una mescolanza di rivendicazione e quando il movimento cresce ci sono dentro eh i neri le donne e vengono recuperati dentro anche quegli operai della cintura della ruggine che avevano votato Trump contro la non mi ricordo chi è scandidato di allora la Hillary Clinton credo eh vengono recuperati dentro questo movimento che non è intendiamoci risolutore pacificatore ma è una riconnessione nella lotta ecco io penso che noi abbiamo bisogno molto di lavorare su questa su questa socializzazione adesso lo so che il termine è tanto poco praticato quanto abusato ma l'inchiesta è davvero un terreno fondamentale l'inchiesta è un terreno vitale perché è il terreno della possibile congiunzione e ricongiunzione di quelli che altrimenti sono entità disperse che possono anche conflire adesso nei giorni scorsi leggevo una specie di mappa e informazione delle tante esperienze di autogestione in una città come Roma di otto governo specie nelle periferie romane è impassionante eh e però anche quelle sono ognuno un deposito in sé fare inchiesta eh io credo anche correndo il rischio di farla isolatamente però mettere il dito nella pianta mettere il dito nella nostra pianta e quindi ricominciare un lavoro che da lì ci può portare Rosa anche a quel a quel terreno più impegnativo della ricerca che tu ci proponevi che io penso dovrebbero proprio essere oggetto di un una volta si diceva di lavoro politico di un lavoro politico grazie grazie Fausto e grazie a voi tantissimo sarebbero almeno tante altre cose da dire io mi scuso con chi anche sulla chat cerca di interroguire con noi ma il tempo a nostra esposizione è tiranno e quindi sono sicuro che non mancherà occasione di rincontrarti e di fare altre domande altri approfondimenti mi sento meravigliosamente ospitato mi piace non potete offrire un caffè ma spero che lo potremo fare presto l'inchiesta si fa meglio bevendo qualche cosa insieme è assolutamente cioè condividere e anche costruire una comunità senza senza bere è difficile costruire una comunità anche se vi voglio bene anche noi anche noi grazie grazie un abbraccio grande grazie grazie a tutti grazie ciao ciao